Pino Palmieri è stato l'unico consigliere regionale a rinunciare al privilegio del vitalizio. Il suo gesto, pur documentato e facilmente reperibile, non ha avuto la giusta eco mediatica che merita. Quello che è successo in Regione ha indignato tutta la nazione. Io non mi sento di appartenere a quella gricca di furbetti. I cittadini oggi ci chiedono di essere di buon esempio. Per questo motivo ho rinunciato al vitalizio, frutto di un sistema a cui non mi sento di appartenere. L'unica pensione che accetterò è quella di ispettore della Guardia di Finanza. Nel luglio 2012, dopo un'inutile lotta per la trasparenza all'interno del più importante organismo di controllo della Regione Lazio, quello contabile, Pino Palmieri si dimette dal suo incarico all'interno della Commissione regionale controllo contabile. Ho denunciato che il sistema di controllo delle spese era inefficiente e inefficace. Ho provato ad incidere positivamente e a cercare di cambiare questo sistema. Non ci sono riuscito e per questo mi sono dimesso dal Comitato di controllo contabile in tempi non sospetti. Ma per Pino Palmieri, combattere contro il malgoverno dando il buon esempio, anteponendo i fatti alle parole, non è stato facile. Ha pagato in prima persona lo scotto di non provenire da una famiglia di politici navigati e baroni della casta. La ricetta per una buona politica è fare le cose con la diligenza del buon padre di famiglia, come scritto anche nel Codice Civile. Il potere dovrebbe essere saper servire, non comandare. Quando arrivi a avere responsabilità di elevato importanza, accade che poi perdi il contatto con la realtà. Io mi sono sforzato a mantenere sempre questo contatto con la realtà. Poi io non riesco a vivere in un contesto dove non ci siano rapporti umani, dove non ci sia comunione. Bisogna interessarsi anche dell'esterno, di chi ti sta vicino e di chi ogni giorno si dà da fare per il nostro paese. Nel marzo 2010 viene eletto consigliere regionale nel Lazio. Continua così la sua carriera al servizio attivo del cittadino, attraverso le sue coraggiose battaglie durante i lavori in aula. Tra le sue tante iniziative, la proposta di legge per la sensibilizzazione e prevenzione del consumo di sostanze illegali e di bevande alcoliche, passata all'unanimità, e la proposta di legge sul sistema unico degli appalti, per una maggiore economicità, trasparenza e soprattutto legalità nella gestione degli appalti pubblici. Mi sono battuto per far approvare una proposta di legge che prevedesse la costituzione di una struttura per il controllo degli appalti. Perché è giusto controllare e verificare che cosa accade dei soldi pubblici, perché è il frutto dei sacrifici dei cittadini. L'ho fatto, non mi hanno ascoltato. Continuerò a combattere per questo e batterò i pugni e continuerò a crederci. Ho sempre svolto il mio servizio, il mio impegno nella mia istituzione, cercando di costruire, di fare cose importanti per me, per la mia famiglia e anche per il tessuto sociale che viveva intorno a me. Ho tanti colleghi che non riescono a mettere su famiglia perché non hanno la disponibilità economica per comprare un tetto per la propria famiglia. Siamo partiti, mi sono fatto promotore di cercare il modo per poter andare incontro a queste esigenze e posso dire che sono contento perché con tanti altri amici siamo riusciti a portare a casa risultati importanti. Questi due anni e mezzo in cui ho esercitato la funzione di consigliere regionale mi sono servite per capire i meccanismi, quali sono le cose che vanno e le cose che non vanno. Io voglio cercare di incidere in modo positivo e lo possiamo fare tutti assieme. Io non voglio arrendermi, voglio continuare a combattere e perciò mi sono rimesso in gioco. Un buon politico deve conoscere il passato, governare il presente e progettare un futuro. Io voglio impegnarmi per progettare un futuro migliore per i miei figli e per i vostri figli. La politica, la buona politica è di tutti. Grazie a tutti.